Vantaggio degli ospiti al 22esimo minuto! Non può giocare il calcio con degli arbitri del genere, cioè nulla, 4 gol, addirittura uno insulta l'albitro, gli dice che ho ritardato e lo lascia dentro al campo. Noi continuiamo tutte le settimane a subire così, ci veniamo qui, partiamo d'ossia, a 10 e mezza di sera ci veniamo a giocare lo spareggio con due arbitri che se li metto a arbitrare, mio figlio che ha 12 anni, mio figlio esce dal campo e gli dice io non posso giocare con te perché sei anticapace di arbitrare, non sei capace. Non è possibile, io spero ci sono le immagini, spero che qualcuno le veda e prenda precauzioni perché il De Angelis finirà il campionato digno esattamente, finiamo come dobbiamo fare, poi prenderemo le nostre precauzioni se continuare la Lega o non continuarla più. Se gli arbitraggi saranno questi è inutile giocare perché a noi ci piace giocare il bel calcio, se questi sono gli arbitri non si può giocare a calcio.